Raga sono letteralmente nel panico e il ciclo amplifica tutto. Oggi mi hanno invitata ad un evento di Fenty Beauty, cioè raga Fenty Beauty non so se ce ne rendiamo conto. Ho 40 minuti per preparare tutto, i capelli non lo so li abbandono poi li farò lì, ma in generale capire come vestirmi stasera, cosa portare, che trucchi portare, come truccarmi, i tacchi, varie cose. Quindi adesso preparo con voi tutto, velocissimamente. Non sapevo come caspita vestirmi perché questa è una stagione del cavolo. Fa freddo ma fa anche caldo, non so come vestirmi. Quindi mi porto due opzioni. Questo qui porto che è a maniche lunghe, molto molto carino, ha una fascia da mettere in vita e ha le spalle bombate. È di Niloufar. E poi porto anche questo completo pelusino nel caso facesse più freddo, con il top, tra virgolette, beige, con le maniche lunghe ed è di revolve. E la gonna sotto, abbinata, mi piace un sacco. Fatemi sapere secondo voi qual è meglio. E poi porto due paia di tacchi, questi qui e quelli neri. Poi insomma capiremo, fatemi un po' sapere anche lì secondo voi qual è meglio. Mi porterò lo zainetto di amore e ci farò stare dentro. Tutto necessario, iniziamo. È già praticamente pieno e deve starci ancora la piastra, i trucchi, un po' di skincare, eccetera eccetera. Ok, Carlotta ce la puoi fare. Trucchi minimo indispensabili, allora porto questo qui che è il fondo di Anastasia Beverly Hills, best fondo tinta ever. Correttore che ti toglie tutte quante le occhiaie e pure i peccati, born this way, lo amo. Beauty Blender. Per il glow che voglio, questi prodotti di Rare Beauty. Blush e illuminante. Che tra l'altro sono mini, top. Contouring stick di Fenty Beauty. Così metto qualcosa anche di Fenty, visto che ne vento di Fenty. Poi oggi vado a fare la laminazione dei sopracciglia, quindi porto solamente questa matita. Tra parentesi, se volete vedere il risultato, andate sulle storie G. Eyeliner. Siero per le ciglia, che metto prima di andare a dormire. Questi orecchini qui di Pure Lay. Adesso rossetti. Porto questo qui di Smashbox. Dura un'infinità il colore, è stupendo. Poi questa tinta qui di Sephora e ovviamente un luci della labbra di Fenty. Questi gloss sono pazzeschi, durano un sacco. E poi Roller Lash. Di Benefit. Ho sistemato tutto qui dentro. E poi porto anche lo struccante. Un siero in contornocchi. Caricatore. Ho aggiunto pigiama, spazzolino, dentifrice. Piastra, termoprogettore. E poi laggiù c'è l'iPad e il libro di matematica finanziaria. Questo qui è l'outfit. I pantaloni sono di Stradivarius. Le scarpe di Impulse Calzature sono delle Dr. Martins. Blazer nero sopra alla felpa che in realtà non volevo mettere mai quello che metterò stasera e non ci stava nello zaino. E si va. Se vi va seguitemi su Insta così vi faccio vedere tutto.